C selvatore andiamo via c'ho freddo Sì, ma che stai mangiando? Eh, è buono, me lo sono comprato in quel negozio lì, che c'aveva un sacco di cose, l'ho preso con i miei soldi. Prima ti sei accorto che... Eh, è buono, è la fragola, è molto buona, vuoi un po'? No, no, grazie. No, veramente buono. No, come se avessi accettato. Guarda, salgiro. È una stucosa, vieni. Sai che prima è venuta una signora che mi voleva regalare le mutande che si mangiano? Eh, però a me non piacciono, non le volevo. Ecco quella signora lì che è prima.